Il programma Mediaset è in costante evoluzione e i fan più avidi dei programmi di rete privata sono super attenti a tutte le voci sui possibili cambiamenti durante la prossima stagione televisiva che inizieranno il prossimo autunno. Nelle ultime ore si sta diffondendo il Tam Tam che vorrebbe il ritorno di Enrico Papi nella condotta di un programma condotto la scorsa stagione da Barbara D'Urso. Di che programma stai parlando? Barbara D'Urso io, Silvio Berlusconi e Teo Teocoli in Telemilano 58 quindi è iniziata la storia dei Mediasete Paolo Del Debbio rabbia dopo l'intervista con Barbara D'Urso peccato Enrico Papi ritorna alla conduzione le voci secondo cui Enrico Papi vorrebbe gestire il programma Barbara D'Urso sta diventando sempre più insistenti e Enrico Papi ha recentemente terminato la sua avventura come commentatore sull'isola del famoso accanto a Vladimir Luxuria e il presentatore Ilari Blasi ma sta già pensando al prossimo passo da prendere probabilmente sarà un progetto che potrebbe tornare alle sue mani vale a dire la condotta di La Pupa e Del Secchione il famoso reality show era stato condotto da Barbara D'Urso durante l'ultima stagione trasmesso quest'anno ma i risultati non sono stati soddisfacenti quindi i manager dei Mediaset stanno pensando di riportare Enrico Papi alla testa del programma vedremo quindi Enrico Papi al timone di uno dei suoi cavalli da battaglia dobbiamo solo aspettare